di giovanni verga i malavoglia voce di lorenzo pieri capitolo decimo parte terza ntoni poveretto finché c'era stato bisogno era corso di qua e di là senza fiato e si era strappati i capelli anche lui adesso che il nonno stava meglio girandolava pel paese con le mani sotto le ascelle aspettando che potessero portare un'altra volta la provvidenza da mastro zuppiddu per abberciarla e andava all'osteria a far quattro chiacchiere già che non ci aveva un soldo in tasca e raccontava questo e a quello come avevano visto la morte con gli occhi e così passava il tempo cianciando e sputacchiando quando gli pagavano poi qualche bicchiere di vino se la prendeva con don michele che gli aveva rubata l'innamorata e andava ogni sera a parlare con la barbara li aveva visti lo zio santoro che aveva domandato all'annunziata se don michele ci passava per la strada del nero ma sangue di giuda non mi chiamo un tonima la voglia se non mi taglio questo corno sangue di giuda la gente ci si divertiva a vedergli mangiare l'anima e perciò gli pagavano da bere la santuzza mentre risciacquava i bicchieri si voltava dall'altra parte per non sentire le bestemmie le parolacce che dicevano ma all'udir discorrere di don michele si dimenticava anche di questo e stava ad ascoltare con tanto d'occhi era divenuta curiosa anche lei e stava tutta orecchi quando ne parlavano e al fratellino dell'annunziata o ad alessi allorché venivano per il vino regalava delle mele e delle mandorle verdi per sapere chi s'era visto nella strada del nero don michele giurava e spergirava che non era vero e spesso la sera quando l'osteria era già chiusa si udiva una casa del diavolo dietro la porta bugiardo gridava la santuzza assassino ladro nemico di dio tanto che don michele non si fece più vedere all'osteria e si contentava di mandare a prendere il vino e berselo nella bottega di pizzuto solo col suo fiasco per amor della pace massaro filippo invece di essere contento che si fosse tolto così un altro cane da quell'osso della santuzza metteva buone parole e cercava di rappattumarli che nessuno ci capiva più nulla ma era tempo perso non vedete che voglia all'argo e non si fa più vedere esclamava la santuzza questo è segno che la cosa è vera come vero il dio no non voglio sentirne parlar più dovessi chiuder l'osteria e mettermi a far la calzetta massaro filippo allora si faceva la bocca amara dalla collera e andava a pregare don michele come un santo nel posto delle guardie o nella bottega di pizzuto perché la finisse quella lite con la santuzza dopo che erano stati amici ed ora avrebbero fatto chiacchierare la gente e lo abbracciava e lo tirava per la manica ma don michele appuntava i piedi in terra come un mulo e diceva di no e chi era là presente a godersi la scena osservava che massaro filippo faceva una bella figura come vero dio massaro filippo ha bisogno d'aiuto diceva pizzuto non lo vedete quella santuzza si mangerebbe anche il crocifisso la santuzza allora un bel giorno si mise la mantellina e andò a confessarsi sebbene fosse lunedì e l'osteria fosse piena di gente la santuzza andava a confessarsi ogni domenica e ci stava un'ora col naso alla graticola del confessionario a risciacquarsi la coscienza che amava tenerla pulita meglio dei suoi bicchieri ma quella volta donna rosolina che era gelosa di suo fratello il vicario e si confessava spesso anche lei per tenerci gli occhi addosso restò con la bocca aperta là dove era ad aspettare ginocchioni che la santuzza ci avesse tanta roba nello stomaco e osservò che suo fratello vicario si soffiò il naso più di cinque volte cosa aveva oggi santuzza che non finiva più domandò perciò a don giammaria quando furono a tavola niente niente rispondeva suo fratello stendendo la mano verso il piatto ma ella che gli conosceva il debole lasciava il coperchio sulla zuppiera e lo tormentava a furia di domande sicché infine il poveretto dovette dire che c'era il sigillo della confessione e sinché fu a tavola rimase col naso sul piatto e ingozzava i maccheroni come se non avesse visto grazia di dio da due giorni tanto che gli andarono in veleno e borbottava fra di sé perché non lo lasciavano mai quieto dopo pranzo prese il cappello e il ferraiuolo e andò a fare una visita alla zuppidda ci deve essere sotto qualche cosa borbottava dal canto suo donna rosolina ci deve essere qualche sudiceria fra suor mariangela e la zuppidda sotto il sigillo della confessione e si mise alla finestra per vedere quanto ci stava suo fratello nella casa di comare venera la zuppidda saltò su tutte le furie all'udire quello che le mandava dire suor mariangela con don giammaria e si mise sul ballatoio a gridare che lei non ne voleva roba degli altri aprisse bene le orecchie la santuzza che se vedeva passare don michele per la sua strada voleva cavargli gli occhi con la conocchia che teneva in mano in barba la pistola che portava sulla pancia già che ella non aveva paura né delle pistole né di nessuno e sua figlia non l'avrebbe data ad uno che si mangiava il pane del re e faceva lo sbirro ed era nel peccato mortale con la santuzza per giunta glielo aveva detto don giammaria sotto il sigillo di confessione ma ella se lo teneva nelle ciabatte il sigillo della confessione quando ci andava di mezzo la sua barbara e ne disse tanti e tanti degli improperi che la longa e la cugina anna dovettero chiudere la porta perché non udissero le ragazze e mastro turi suo marito onde non restare indietro sbraitava anche lui se mi toccano la coda mi fanno fare qualche sproposito benedetto dio io non ho paura di don michele e di massaro filippo e di tutta la ciurma della santuzza state zitto gli dava sulla voce comare venera non avete inteso che massaro filippo non c'entra più con la santuzza gli altri invece continuavano a dire che la santuzza ci aveva massaro filippo per aiutarla a dire le orazioni l'aveva visto piedipapera bravo massaro filippo ha bisogno d'aiuto anche lui ripeteva pizzuto non l'avete visto che è venuto a pregare e strapregare don michele per aiutarlo nella spezieria don franco chiamava la gente apposta per schiamazzare sull'avventura ve l'avevo detto non è vero tutti così quei leccasanti col diavolo sotto le gonnelle bel lavoro è due alla volta per fare il paio ora che gli danno la medaglia a don michele l'appenderanno insieme a quella di figlia di maria che ci ha la santuzza e sporgeva il capo fuori dall'uscio per vedere se ci fosse sua moglie alla finestra di sopra la chiesa e la caserma il trono e l'altare sempre la stessa storia ve lo dico io egli non aveva paura della sciabola e dell'aspersorio e se ne infischiava di don michele tanto che gli leggeva le corna quando la signora non era alla finestra e non poteva udire quello che gli diceva nella spezieria ma donna rosolina diede una buona lavata di capo a suo fratello appena venne a sapere che si era messo in quel pasticcio perché quelli della sciabola bisogna tenersi gli amici amici un corno rispondeva don giammaria con quelli che ci hanno levato il pan di bocca io ho fatto il debito mio io non ho bisogno di loro sono loro piuttosto che hanno bisogno di noi altri almeno dovreste dire che vi ha mandato la santuzza sotto sigillo di confessione sosteneva donna rosolina così non la chiappereste voi l'inimicizia però in aria misteriosa andava ripetendo che c'era una cosa sotto sigillo di confessione a tutte le comarie i vicini che venivano a ronzarle attorno per sapere come sarà venuto a scoprire quell'imbroglio piedipapera da che aveva sentito dire a don silvestro che voleva far cadere la barbara coi suoi piedi come una pera matura andava sussurrando questa è tutta manovra di don silvestro che vuol far cadere la zuppidda coi suoi piedi e tanto lo disse che arrivò all'orecchio di donna rosolina mentre cuoceva la conserva dei pomidoro con le maniche rimboccate e si sbracciava a difender don michele davanti alla gente perché si sapesse che loro come loro non gli volevano male a don michele sebbene ei fosse di quei del governo e diceva che l'uomo è cacciatore e la zuppidda doveva pensarci lei a guardarsi la figliuola e se don michele ci aveva degli altri intrighi cotesto riguardava lui e la sua coscienza questa è opera di don silvestro che vuol la zuppidda e ha scommesso dodici tari che la farà cascare coi suoi piedi venne a dirle comare la vespa mentre aiutava donna rosolina a fare la conserva dei pomidoro e la ci veniva a pregare don giammaria che facesse entrare gli scrupoli in testa a quel birbante dello zio crocifisso il quale ci aveva la testa più dura di un mulo non lo vede che ha i piedi nella fossa diceva che vuol portarsi anche questo scrupolo sulla coscienza ma all'udire la storia di don silvestro donna rosolina di botto cambiò registro e si mise a predicare col mestolo in aria rossa come la conserva dei pomidoro contro gli uomini che lusingano le ragazze da marito e quelle pettegole le quali stanno alla finestra ad uccellarli già si sapeva che razza di civetta fosse la barbara ma faceva specie che ci cascasse anche uno come don silvestro il quale sembrava un uomo di proposito e nessuno si sarebbe aspettato da lui un tradimento simile invece poi andava a cercarsi i guai con la zuppidda e con don michele mentre ci aveva la sorte in mano e se la lasciava scappare al giorno d'oggi per conoscere un uomo bisogna mangiare sette salme di sale però don silvestro si faceva vedere a braccetto con don michele e nessuno osava dir parola in faccia a loro di quei discorsi che correvano ora donna rosolina gli sbatteva la finestra sul naso allorché il segretario stava a guardare in aria dalla porta dello speziale e non voltava nemmeno il capo quando metteva al sole sul terrazzino la conserva dei pomidori una volta poi volle andare a confessarsi ad agi castello perché ci aveva un peccato che non poteva dire a suo fratello e tanto fece che incontrò per caso don silvestro giusto mentre tornava dalla vigna o beato chi vi vede cominciò a dirgli fermandosi a prender fiato perché era tutta rossa e scalmanata ci avete gran roba per capo che non vi ricordate più degli amici antichi io non c'ho nulla per capo donna rosolina a me mi hanno detto che ce l'avete ma è una bestialità che vi farebbe venire il capo grosso davvero chi ve l'ha detto lo dice tutto il paese e lasciatelo dire e poi volete saperla io faccio quel che mi piace a me e se ci avrò la testa pesante ci ho da pensare io buon provi faccia rispose donna rosolina col viso rosso vuol dire che cominciate ad avercela da adesso se mi rispondete in questo modo tanto che non me l'aspettavo e vi ho avuto sinora per giudizioso scusate se mi sono sbagliata vuol dire che acqua passata non macina più e buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo pensateci che il proverbio dice chi cambia la vecchia con la nuova peggio trova e chi piglia bellezze piglia corna godetevi la zuppidda in santa pace perché a me non me ne importa e per tutto l'oro del mondo non vorrei che si dicesse di me quello che si dice della vostra zuppidda state tranquilla donna rosolina che ormai non si può dire più nulla di voi almeno non si dice che mi mangio mezzo paese avete inteso don silvestro lasciateli dire donna rosolina che a bocca mangia e chi non mangia se ne muore e non si dice pure quel che si dice di voi che siete un truffatore seguitò donna rosolina verde come l'aglio mi avete inteso don silvestro e di tutti non si può dire la stessa cosa quando non vi servono più poi datemele quelle venticinque onze che vi ho prestato io non li rubo i denari come certa gente non dubitate donna rosolina io non l'ho detto che le avete rubate le vostre venticinque onze e non andrò a dirglielo a vostro fratello don giammaria a me non me ne importa di sapere se gliele avete rubate sulla spesa o no so che non ve le devo io mi avevate detto di metterle a frutto per farvi la dote se qualcuno vi avesse voluta ed io li avevo messi in una banca per conto vostro sotto il mio nome per non far scoprire la cosa a vostro fratello il quale vi avrebbe domandato di dove vi erano venuti quei denari ora la banca è fallita che colpa ce ne ho io imbroglione gli sputava in faccia donna rosolina con la schiuma alla bocca truffatore io non vi avevo dato quei denari per andare a metterli in una banca che falliva io ve li avevo dati per tenerci gli occhi addosso come se fosse stata roba vostra si ho fatto come se fosse stata roba mia rispondeva il segretario con la faccia tosta tanto che donna rosolina gli voltò le spalle per non crepare dalla rabbia e se ne tornò attrezza sudata come una spugna nell'ora calda con lo scialle sulla schiena don silvestro rimase lì fermo a sogghignare davanti al muro dell'orto di massaro filippo finché il non ebbe scantonato e si strinse nelle spalle borbottando fra di sé a me non me ne importa nulla di quel che dicono ed aveva ragione di non curarsi di quel che dicevano dicevano che se don silvestro si era messo in testa di far cascare la barbara coi suoi piedi ci sarebbe caduta tal briccone matricolato e gli era però gli facevano di berretto e gli amici gli accennavano col capo sogghignando quando andava a chiacchierare nella spezieria siate un bel prepotente gli diceva don franco accarezzandolo sulle spalle un vero feudatario siete l'uomo fatale mandato in terra per provare come 4 e 4 8 che bisogna fare il bucato alla vecchia società e allora veniva antoni a prendere il medicamento per nonno tu sei il popolo finché sarai paziente come il somaro ti toccheranno le bastonate la signora che faceva la calzetta dietro il banco per mutare discorso domandava come sta ora il nonno ntoni non osava aprir bocca davanti la signora e se ne andava abbrontolando col bicchiere nelle le mani le mani le mani le mani le mani il lo la la